Il ritorno del castoro in Alto Adige mancava da 500 anni, le spettacolari immagini in esclusiva nel servizio di Alessandro Marini. I segni del suo arrivo incisi sugli alberi abbattuti davanti all'acqua a pochi chilometri dal confine. Poi di notte a meno 9 gradi sotto la neve la conferma sulle dolomiti dell'Alto Adige è tornato il castoro. Sono stato sorpreso di trovare qua un castore. Vieni dall'Austria, sulla Drava. Il castore ho trovato qua un posto ideale e speriamo si rimane. Diario inedito dalla Val Pusteria, ultima tappa di un viaggio solitario lungo le Alpi sudorientali. Forse non lo sa, ma non è l'unico in Italia. 150 chilometri a est in Friuli, un altro castoro due anni fa ha risalito contro correnti corsi d'acqua, ha girato barriere artificiali e trovato casa nella foresta di Tarvisio. In questo che è il più importante corridoio faunistico mitele europeo abbiamo visto il ritorno a partire dagli anni 70 del cervo, poi dell'orso, della lince, del lupo, della lontra e oggi anche del castoro. È il piccolo ingegnere della natura. Era assente in Italia da quasi 500 anni. Sulle sue tracce ora ci sono i ricercatori, ma presto, si spera, arriveranno rinforzi. Il legno non manca e c'è una diga da costruire. Purtroppo è il terzo inverno che passa da solo. Tutti ci auguriamo che in primavera finalmente di trovare la sorpresa e che finalmente riesca a formare una sua famiglia. Allentare lo stress, addormentarsi sereni.